Una vittoria che vale la stagione. La Scavolini batte per la quarta volta su altrettante gare in casa la Vanoli Cremona e vista la sconfitta di Biella può festeggiare con tre turni di anticipo la salvezza matematica. Nella ripresa i marchigiani hanno decisamente cambiato marcia. Breccole di 30 a 14 in 12 minuti e più 16 nel compito generale. I Lombardi non ne avevano più e la VL allungava fino al più 19 del trentaseiesimo. 22 punti in 25 minuti con 6 su 8 da 3, 5 rimbalzi e 25 di valutazione per Mech. 18 punti con 4 su 7 da 2, 3 su 6 da oltre l'arco, 6 recuperi, 2 schiacciate e altre tanti assist per Berbur. 12 punti e 9 rimbalzi per Kinzi. Stesso score con 6 rimbalzi e 4 falli subiti per Crosariol. 10 punti per Cavaliero. Da sottolineare i 5 assist di Stipcevic. Dall'altro lato 21 punti e 8 rimbalzi per Peric. 15 punti con il 100% dalla lunetta, 9 falli subiti, 4 rimbalzi, 6 assist e 26 di valutazione per Vitali. 15 punti anche per Jackson. 14 con 7 su 9 dal campo, 10 rimbalzi e 24 di valutazione per Stipanvic. La Scavo ha tirato dalla grandissima distanza con il 46% abbondante contro il 31 degli avversari che hanno perso 22 palloni. In graduatoria Pesaro sale a 18 punti, la Vanoli resta a 22.